Ciao a tutti, vi presento Alex, John e Maria, tre colleghi che stanno lavorando insieme a un progetto importante. Hanno organizzato tutto alla perfezione, ma ecco che all'improvviso le scadenze vengono anticipate e devono aggiungere altre attività. Alex perde la calma, John mantiene il solito ritmo e non si adatta, mentre Maria protesta e si rifiuta di collaborare. Il tempo passa, la tensione aumenta ed è sempre più difficile mettersi d'accordo. Ma che cosa non ha funzionato? È semplice, nessuno ha attivato le competenze trasversali, quelle caratteristiche individuali che contribuiscono a migliorare le prestazioni nel lavoro ma anche nello studio, come per esempio empatia, leadership, gestione del conflitto, autocontrollo. La ricerca ha dimostrato che le competenze trasversali svolgono un ruolo chiave nell'ottenimento dei risultati e sono applicabili in qualsiasi settore e professione. Per questo sono chiamate trasversali. Ma come si apprendono? Questo è il compito del Cafoscari Competency Center, il primo centro universitario in Italia dedicato allo sviluppo delle competenze trasversali. Organizza laboratori, corsi, percorsi e moduli didattici, sessioni di valutazione delle competenze, attività di coaching, avvalendosi di una piattaforma digitale di metodologie didattiche innovative sviluppate in costante collaborazione con i migliori centri di ricerca in Europa e negli Stati Uniti. A chi si rivolge il Cafoscari Competency Center? Naturalmente agli studenti ma anche a chi già lavora e alle aziende che vogliono migliorare la performance dei loro collaboratori per fare la differenza in un mondo sempre più competitivo. Cafoscari Competency Center. Con le competenze giuste è tutta un'altra performance.